Sono Miss Monica 6 anni fa ho lasciato l'Abruzzo per andare negli Stati Uniti ad allenarmi in una delle scuole migliori del mondo dall'8 volte campione NWA e WWE Hall of Famer Harley Race Lì ho anche avuto modo di allenarmi con delle leggende del wrestling come Ric Flair, Ricky Stingwood e Tom Pritchard Da allora ho lottato in 10 nazioni diverse e ho vinto titoli in Italia, Stati Uniti, Inghilterra e Grecia Nel 2016 sono diventata la prima italiana ad aver lottato al RAW contro Nia Jax Sono Fabio Ferrari Quando ho iniziato a praticare wrestling in Italia non c'era nulla Oggi sono l'unico italiano ad aver lottato ai Caraibi, Pakistan, Kuwait per un totale di 19 diversi paesi in tutto il mondo In carriera ho lottato oltre 1000 match affrontando grandi nomi come Cesaro, Ultimo Dragon, Chris Masters, Sami Zayn e ho conquistato 18 titoli diversi In questa serie vi porteremo con noi per scoprire il wrestling on the road Siamo pronti Finlandia, arriviamo! Ecco, welcome to Raccordo Vaffanculo Fa un freddo cane Da morire, qua la gente si guarda e noi quei guanti, cappello, mattina usata perché fa troppo freddo Sembravamo due deficienti, io questo affare mi guardano che pensano che sia un ladro, non lo so Vabbè, comunque fa troppo freddo Me ne voglio andare via subito Non so te, ma io ho un po' fame Dove andresti a mangiare? Magari qualche prelibatezza da... Pupu Chissà qual è il piatto della casa Secondo te qual è il piatto della casa? Forse, forse, forse È la mia cacca Benvenuti al training center della Slam Wrestling Finland Un posto fantastico che quando noi abbiamo iniziato a fare wrestling in Italia ci saremmo sognati Occhio però che la cosa veramente importante è la giusta selezione del trainer Indoo push-ups, squat, mountain climber sono solo alcuni dei centinaia di esercizi che ogni lottatore professionista deve fare costantemente per poter raggiungere un adeguato allenamento di cardio Così importante ma purtroppo spesso troppo bistrattato Un cardio eccellente è fondamentale nel professional wrestling per evitare gli infortuni e soprattutto per poter performare sempre al massimo durante l'incontro Così 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 e stear powerful e get up show your face to the brow and then do the wrist and then push the legs this one they've done a table ok this hand goes here this one is the one that protects you from falling backwards they do anything more no not ok 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 Ora andiamo a conoscere il pioniere del wrestling finlandese, Starbuck. Then we have our homegrown talent, we have a wrestling school here in Finland called SLAM Pro Wrestling Boot Camp, at which I'm the head trainer and I coach up the talent, now I've been coaching since 2003, in 8 different countries, to date. The main goal of SLAM Wrestling is to sell events in Estonia and Finland, we will be expanding across the Baltic sector, which means Latvia, Lithuania, maybe even into Poland that's my objective with this company to offer an all star cast different types of matches that we can offer largely using an old school or like let's say a more classic wrestling template because in slam wrestling we don't so much apply to the how could you say the modern spot style of wrestling, the spot monkey style So I got into the wrestling business in 1992 in Calgary, Alberta, Canada the home of wrestling legends the place where the famous Hart family is from Bret the Hitman Hart, Stu Hart the promoter, his father and what not since then I've wrestled in 21 countries I think or it was 22 countries around the world I'm able to say that I'm the top dog in this business in the Nordic sector of Europe period Siamo tornati in Italia dopo tre giorni intensi Intense e bellissimi dove abbiamo fatto le registrazioni per la serie YouTube della Slam Wrestling Final quindi una serie di incontri e il seminario per i ragazzi della scuola Riguardo questo, Fabio, c'è un messaggio proprio per te Per te Hey everyone it's Sly Sebastian over from Slam Wrestling Finland's training hall Over my 10 year career I've been to quite a few seminars and I must say that Fabio Ferraris was one of the best The way Fabio thinks about the minute details of your character and your ring work can really help you forward in your career even if you're a beginner or a more experienced veteran of the game so I implore you if you have a Fabio Ferrari 7 are near you take part Ammazzano e pagare il ragazzo Per me c'era sold e parlo Ferrari Comunque ringraziamo lui e tutti i ragazzi che hanno partecipato vorremmo anche farvi vedere qualche immagine dei match della serie di YouTube che abbiamo registrato ma siamo no spoiler ma uscirà un po' più avanti sui canali ufficiali della Slam però possiamo farvi vedere qualcosina vi lasciamo con un piccolo recap della settimana scorsa siamo stati a Vienna in Austria a location storica per il wrestling europeo si è svolto un Prater Kacen Show uno dei show dell'anno della federazione molto bello pieno di gente finalmente e sono successe un paio di cose interessanti quindi buona visione e noi ci vediamo alla prossima puntata to me il numero 1 per il numero 1 per il numero 1 per il Prater Focale e per il EWA e per il titolo stanno di Genoa Italia Fabio Ferrati il vettore il vettore il vettore e la razzia e la razzia e la razzia europea wrestling asociatio europea champion con un po' di 95 kg di Wien per pretoria WI Peter Uo would pensare un a essere Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.